Senti Ale, cosa direbbe invece Gian Piero Galeazzi? Buttiamola là. Per me la matriciana, un legame affettivo con la matriciana, diciamo che mi riporta un po' alla mia infanzia quando mia madre era un bambino e ricordo che nel latte, nel biberon, metteva sempre i plasmon alla matriciana biscotti che purtroppo non sono più commercio, ma veramente incredibili per la vera colazione dei campioni beh, poi che dire dei chef, un bel piatto, una bella matriciana, buona matriciana anche se non ho mangiata ma certo che altri 4 etti di pasta le avrei buttate, però come assaggio non è male, dai Nicola